Musica Amici di Voce di Strada, sono Benedetta Sirignano, avvocato. Benvenuti nel nostro format Donne e Legalità, uno spazio dedicato alle donne e alla legge, nel quale tratteremo e approfondiremo argomenti e problematiche connesse alla sfera della donna. Oggi vi parlerò di femminicidio. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la prima causa di uccisione nel mondo delle donne tra i 16 e i 44 anni è l'omicidio da parte di persone conosciute di sesso maschile. Le donne uccise nel 2012 in Italia sono state 170, secondo il rapporto Eures-Ansa. Il termine femminicidio è un neologismo. Negli anni 90 il fenomeno non era noto e quando alcune criminologhe femministe verificarono questa triste realtà, decisero di nominarla femminicidio. Fu una scelta politica, poiché la categoria criminologica del femminicidio introduceva un'ottica di genere nello studio di omicidi neutri da un punto di vista di identità di genere e quindi consentiva di rendere visibile il fenomeno, spiegarlo e potenziarne l'efficacia delle risposte punitive. Il termine femminicidio è stato coniato dalla antropologa messicana Marcella Lagarde per indicare gli omicidi basati sull'identità di genere, andando oltre, seppur inglobando, quello che è il termine di uxoricidio utilizzato in diritto. La definizione di femminicidio trae origine dalla strage delle donne di Ciudad Juarez, una città al confine tra il Messico e gli Stati Uniti, dove nel 1992 più di 4.500 giovani donne sono scomparse e più di 650 sono state stuprate e torturate, il tutto nell'indifferenza delle istituzioni. Nel 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 25 novembre come giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ma cosa accomuna tutte queste donne che vengono uccise? Il fatto di essere uccise in quanto donne. È stata soprannominata Damini, che vuol dire luce, illuminazione, il nuovo simbolo della violenza nel mondo contro le donne. Damini era una ragazza di soli 23 anni, morta a seguito delle gravi lesioni interne causate da una sbarra di metallo che i suoi aggressori, sei uomini, hanno usato per aggredirla nel corso di una violenza di gruppo. Nuova Delhi, in India, ha il primato per il più alto numero di reati sessuali. È stato stimato che negli Stati Uniti si verifica uno stupro ogni sei minuti e ogni 15 secondi una donna viene picchiata. Per cercare di arginare questa mattanza, due anni fa è nata a New York la United Nations Women, una nuova agenzia dell'ONU, il cui obiettivo è appunto promuovere e velocizzare il processo di uguaglianza delle donne nel mondo. Nei primi giorni del luglio 2011 la United Nations Women ha fatto il suo debutto con la pubblicazione del primo rapporto presentato al Palazzo di Vetro dalla sua direttrice Michelle Bachelet, ex presidente del Cile. Nel rapporto si evidenziano i progressi fatti per contrastare la violenza sulle donne, ma si sottolinea come ancora ad oggi vi siano 603 milioni di donne che vivono in ben 125 paesi in cui la violenza di un marito o di un padre nei confronti della moglie o della figlia non è ancora reato. La decisione di concludere una relazione e i primi tre mesi dalla rottura del rapporto costituiscono per le donne il momento in cui rischiano di più. Il periodo all'interno del quale avviene quasi la metà degli omicidi compiuti dall'ex e parliamo del 47,2%. Il femminicidio è infatti la conseguenza di un possesso negato e frequentemente dipeso dalla decisione della vittima di uscire da una relazione sentimentale con il proprio molestatore o aggressore. Da un punto di vista territoriale in Italia il femminicidio si manifesta soprattutto nelle regioni dell'Italia del Nord, tra il 2000 e il 2011 il dato è di 728 donne uccise. La Lombardia è il primato dei femminicidi seguita dall'Emilia Romagna, dal Piemonte e dal Lazio. Vedete uno dei punti chiave del femminicidio è che ci troviamo dinanzi a una cultura, una violenza illegale, per certi versi legittimata da una cultura della donna che non reagisce immediatamente al primo segno di violenza che dapprima è un segno di tipo psicologico, la violenza è sempre prima di tipo psicologica e poi successivamente si materializza in un gesto fisico. Ogni problema giuridico o socio-culturale che sia, per essere risolto, deve essere analizzato dapprima nella sua causa e poi nel suo rimedio. In poche parole la legge non può prescindere dalla cultura del problema, dalle cause sociali sottese al problema stesso. La cultura del problema è il collante tra la legge e la risoluzione del problema stesso in termini di efficacia della legge. Il nostro format Donne Legalità ritaglia uno spazio alla problematica della violenza sulle donne, anche per cercare di sensibilizzare chi ci ascolta. Il nostro sarà un appuntamento settimanale. Nella prossima puntata dedicheremo uno spazio allo stalking. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, io 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 non ti amo più. Grazie a tutti.